Probabilmente torna giù se hai qualche buono Non fanno paura, non si mettono sopra Saranno i colori Così che fa rumore Niente in passaggio ragazzi Lo proviamo Vedi che tazzo adesso li fa su Era a ramo E non lo so perché gli ho anche tirato su center t. Può essere anche qui no 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 Grazie a tutti. Vado a cercare vento. Vado a cercare vento. Vado a cercare vento. Canto forse quello che gli hai prestato. No, no, è la ragazzina che sta provando con la culonia di Sartina.